Successo ieri per la prima serata di Ebolin Beach, con la presenza di tantissimi cittadini che aspettavano il ritorno della sabbia in città e per la prima volta è stata creata l'Arena Beach Stadium in Piazza della Repubblica. Subito spettacolo con il Memorial Giugno Tagliaferro sgritta. Da oggi il torneo amatoriale che durerà fino al 15 luglio, curato dall'organizzatore Massimo Giussi e il suo staff. Ma ascoltiamo le voci dei protagonisti. È la prima volta che si fa una manifestazione del genere in Piazza della Repubblica. La sabbia in piazza non è mai entrata. Tutto questo anche grazie all'amministrazione comunale, perché il sindaco ha voluto fortemente questa manifestazione nel cuore della città. E praticamente oggi iniziamo il torneo ufficiale, inizieremo prima con il Beach Volley, oltre 20 squadre iscritte al torneo amatoriale. Poi il 12 abbiamo il torneo di Beach Tennis e poi abbiamo il torneo di Beach Soccer dove ci sono altre tante squadre, quindi 20-22. Ora stiamo finendo ancora di raccogliere stasera, abbiamo il numero definitivo. Le finali si faranno il 15 di luglio qui in Piazza della Repubblica. Abbiamo allestito un bellissimo villaggio che parte dall'inizio della piazza e arriva oltre il campo. Abbiamo più di 10 istendisti e prodotti enno-castronomici. Invitiamo tutti a visitarci e a passare una serata diversa in compagnia dello sport e degli amici di Sud TV. E il tuo slogan? E si parea! Il Memorial è un qualcosa che abbiamo sempre cercato di portare. portare avanti anche se non è direttamente collegato al Beach Volley. Però quest'anno abbiamo deciso di metterlo insieme a questa bella manifestazione perché in passato a mamma è sempre piaciuta, così anche a Elvira ma anche a Matteo. Quindi per noi è sempre emozionante e poi è una cosa bella per avere sempre il ricordo di persone importanti che hanno fatto qualcosa per lo sport in generale a Eboli. Marco Tortolani, uno degli organizzatori di questo Eboli in Beach, una scommessa che è diventata vincente? Da quello che vediamo adesso, questa sera, sembra proprio di sì. Ci giriamo intorno e vediamo quello che avevamo pensato qualche giorno fa, qualche settimana fa, la bomboniera di Eboli e qui gente, un ambiente pulito, molto lineare, con un campo spettacolare, sabbia perfettamente in ordine e tutto come volevamo. Speriamo adesso che il nostro popolo e anche i cittadini vicini ad Eboli verranno qui a divertirsi e a giocare insieme a noi. Ancora un punto, 6 a 1.